Dolcetti alle mandorle e alle ciliegie senza glutine e senza lattosio. Bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme questi dolcetti deliziosi che somigliano a dei biscotti ma sono molto più veloci e soprattutto non c'è il burro. Ma vediamo come fare. Intanto questa è la lista degli ingredienti che come vedete è veramente molto molto breve. Inizialmente verso la farina di mandorle con una piccola parte di zucchero in un tritatutto per renderla ancora più sottile e togliere eventuali grumi. Verso questa farina di mandorle in una ciotola, aggiungo poi lo zucchero rimanente, aggiungerò il mix di farine senza glutine di cui vi parlerò nella descrizione qua sotto il video, aggiungo l'uovo e semplicemente impasto con la mano. Se vi scoccia farlo con la mano potete usare una planetaria con l'accessorio foglia. In pochissimi istanti, qui ho un pochettino velocizzato però effettivamente il tutto si svolge in pochissimi minuti, otterremo questo impasto lievemente appiccicoso, morbido ma che si può manipolare tipo plastilina per intenderci. Ecco qua vedete che consistenza deve avere? Dopo aver preparato l'impasto che nel frattempo ripongo in frigorifero mi occupo di snocciolare le ciliegie. Qui sono 9 ciliegie, bastano 9, sono 9 dolcetti in tutto. Prelevo un pochettino di composto, di impasto, per formare una pallina grande quanto all'incirca una pallina di pink bongo, forse leggermente di più, formo una pallina molto liscia, creo un incavo in questa pallina dove inserirò una ciliegia snocciolata, richiudo l'impasto attorno alla ciliegia, riformo una pallina liscia e li vado man mano sistemando su una teglia coperta di carta da forno. Vi faccio vedere l'operazione della creazione dell'incavo a velocità rallentata, vedete è molto semplice, comunque l'uso dei guanti vi agevola tantissimo perché l'impasto non si attacca ai guanti. Una volta pronte tutte le palline, le mettiamo in frigo mentre facciamo riscaldare il forno a 170 gradi in modalità ventilata e voilà le palline di mandorle con il ripieno di ciliegie sono pronte. Una volta che sono fredde le passo semplicemente nello zucchero a velo ma è facoltativo e basta, le degusto. Essendo dei biscotti non hanno bisogno di essere conservati in frigorifero, durano svariati giorni, sono buonissimi. Grazie per essere stati con me, grazie per il like e alla prossima, ciao!